Benvenuti in questa nuova puntata di questo reality show! Dove ci sono io? Ecco, abbiamo cambiato studio! Ci sono le nuvolette e tante cose! E' un elmo messo al contrario! Sì! Tutti i nostri concorrenti adesso sono pari! Sì! E là sotto c'è la nostra band di colazione! Che fa così, guarda! Mi è piaciuta la canzone! Allora, quindi... Oggi diremo una squadra! Quindi, nell'episodio precedente abbiamo notato certe cose! Quindi adesso sceglierò io i capitani! E se azzeccherò quelli della puntata prima... Non mi interessa! Perché adesso li voglio scegliere io! La puntata prima non c'entra niente! Scelgo il gastone! Conurious Ad Ministry E' tutti di lato. Di lato a me! La parte rossa! E' i cane magico! Sempre il cane magico? Sì! Allora, quindi, dovete scegliere le vostre squadre adesso. Aspetta, fermo, adesso, quindi, prima gastone. Un pesce magico. Un pesce magico. Un pesce magico. Sì. E ho diritto a tre desideri. Un pesce magico, a tre desideri, un pesce magico. Mettiti dietro di lui. Ok, adesso. Cane magico. Ok. Ha detto che vuole tizio. Ok, tizio. Lassiti dietro di lui. Ok, gastone, a chi vuoi? La rana. La rana. E' già messo al suo posto. E quindi, il cane magico ti tocca avere rocchi. Sì, siete messi in un ordine molto, guarda. Tom, tom, tom. Ok, band musicale di colazione. La 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 la. Ok, oggi vi insegnerò come fare un pupazzo di prosciutto. No, aspetta, ho sbagliato canale. Ah sì, quindi siamo arrivati in questa puntata. Abbiamo scelto le squadre. Non vi dirò mai quello che ci sarà nella prossima puntata, se non lo sentono pure loro. Squadra rossa e squadra blu. Allora, vi siete divertiti? Sì. Non ho chiesto a voi, ho chiesto a chi mi guarda. Però non mi sente nessuno. Allora, ci vediamo nella prossima puntata. Dove? Il cane magico fa esplodere una banana, se ci riusciamo. Una banana! Ciao!